Musica Amici, è arrivato il momento, è arrivato il momento di safe drive, il momento di stare assieme con la nostra passione, i motori appunto, 60 minuti dove concentreremo davvero numerosi servizi e poi come sapete due approfondimenti in studio quest'oggi parleremo di Mercedes e di Jeep ma è arrivato il momento di lasciare la parola alla regia soltanto per 30 secondi perché in studio c'è una splendida Mercedes EQE che vi e che ci aspetta a dopo ve l'avevo annunciato in studio abbiamo la nuova Mercedes EQE quindi la versione possiamo dire elettrica della classe E ma poi dopo entraremo nel dettaglio la conosceremo bene però questa vettura ci dà l'occasione lo spunto per parlare in maniera più lato per cercare di approfondire la questione, non dico il problema l'argomento sull'elettrificazione e lo facciamo con Pierluigi Bonora il giornalista o pioninista collega qui in studio grazie Pierluigi di essere tornato grazie a voi per l'invito un saluto a tutti e naturalmente con Eugenio Blasetti che è collegato con noi da Roma responsabile della comunicazione di Mercedes Benz Italia grazie Eugenio di esserti collegato grazie a tutti voi ebbene la mia prima domanda che faccio che metto sul piatto oggi è questa l'elettrificazione può essere davvero la soluzione giusta ideale considerato il fatto andando intendo dire venendo incontro andando incontro al problema dell'inquinamento considerato il fatto che il resto del mondo negli altri continenti si viaggia ad una velocità diversa quindi può essere considerato l'elettrificazione la strada giusta parto da Eugenio ecco l'idea che ha Mercedes su questo argomento è un'idea che ci interessa insomma perché il ruolo di Mercedes nel panorama automobilistico direi che è piuttosto pesante e importante allora io lavoro da 32 anni in Mercedes e non mi era mai capitato che la nostra azienda fosse così chiara sul futuro quindi in qualche modo Mercedes ha scelto diciamo la strada dell'elettrificazione e ha fissato una serie di date per arrivare a questo obiettivo per quanto riguarda la sua produzione quindi la data il primo progetto quello che ha definito la data finale quella del del 2039 era un progetto ambition quindi il concetto noi quello la nostra visione diciamo del mondo è che il 2039 sarà l'anno in cui il mondo sarà pronto diciamo ad una transizione elettrica questo non significa che l'elettrico per noi sarà esclusivamente l'unica visione perché ad esempio noi vediamo l'idrogeno per i nostri track perché non riteniamo che sia sostenibile economicamente l'idrogeno per una distribuzione capillare ma sulle grandi direttrici per il trasporto delle merci è la soluzione diciamo sicuramente più intelligente per quanto riguarda invece le passenger car voi sapete che siamo quelli che in qualche modo hanno più investito sull'endotermico tant'è che effettivamente siamo gli unici che hanno gli ibridi plug-in diesel abbiamo i diesel più moderni in assoluto che stanno sul mercato i nostri clienti ci riconoscono diciamo questo privilegio e comprano ancora tantissime automobili diesel però noi che cosa coerenti con questo obiettivo diciamo il mondo in qualche modo è pronto ad abbandonare i carburanti i carburanti fossili e quindi in qualche modo i passi che noi abbiamo identificato sono stati oltre a quello del 2039 quello del 2030 in cui abbiamo detto nel 2030 pensiamo che ci saranno dei paesi in Europa che saranno pronti alla transizione elettrica e questi paesi già si capisce più o meno quali sono sono quelli del nord Europa che già stanno andando verso molto velocemente verso l'elettrificazione perché hanno investito già moltissimo nelle nelle infrastrutture e quindi questi paesi noi saremo pronti già a traslare dal 2030 in una produzione completamente completamente elettrificata Luigi Eugenio dice l'elettrico va bene in alcuni segmenti ci sono altre soluzioni per altri segmenti ovviamente legate come il trasporto pesante e via dicendo e poi qualcuno deve pure iniziare in sostanza dove c'è quindi iniziamo noi poi piano piano evolverà la tua la tua opinione allora tutto quanto è stato programmato in relazione a questa svolta che dovrebbe portarci al tutto elettrico dal 2035 è stata programmata negli anni diciamo più sereni tra virgolette ma che non sia mai sereni ovvero sia nel periodo pre-covid pre-guerra pre-rincaro di materie prime pre-crisi energetica pre-crisi dei chip pre-tutto diciamo quindi una visione che andava bene nel 2018 2019 inizio 2020 ma in due anni il mondo è cambiato e sta cambiando veramente in peggio cioè ci sono i costi delle materie prime che schizzeranno ancora per diverso tempo il settore dei microchips che arriva tutto da Taiwan non è per il big di questo ambito ovvero dei produttori di microchip il settore automotive non è remunerativo come quello degli smartphone per esempio lasciamo da perdere le ipocrisie le demagogie e l'ideologia che è veramente una brutta bestia guardiamo con realtà a quanto sta succedendo nel mondo perché sicuramente si rischia di fare un passo che pagheranno in maniera molto grave soprattutto le imprese e i lavoratori del settore Eugenio a proposito di guardare con obiettività la situazione il cliente ha anche una preoccupazione l'automobilista chi deve comprare un'auto è risaputo che le automobili elettriche costano naturalmente per ovvie ragioni di più rispetto alle automobili con motore endotermico tradizionale e l'anticipare i tempi quindi avere sul mercato la possibilità di poter acquistare soltanto un'automobile elettrica non potrebbe causare l'effetto di una diminuzione delle vendite la gente naturalmente magari tende a mantenere la propria vettura farla vivere più a lungo possibile in sostanza non è che l'automobile diventi sempre più qualcosa tra virgolette per ricchi qual è la vostra politica in questo senso? Beh io qui devo rispondere diciamo per il marchio che rappresento e per il mercato perché Mercedes ha chiaramente già da qualche anno definito una strategia che è quella di focalizzazione sulla parte alta del mercato quindi è come se Mercedes tornasse un po' a quello che era negli anni 80 negli anni 70 quindi un marchio che produceva meno automobili che in particolare fondamentalmente sul canale privato quindi con prezzi elevati con altissimi valori residui ancora più alti rispetto a quelli che già Mercedes ha oggi e quindi questa è la chiarissima ambizione che noi vogliamo perseguire e già stiamo facendo con grande successo noi in particolare sulle automobili se ne è parlato sulle automobili compatte ridurremo praticamente sulle macchine diciamo quelle più di minor costo ridurremo diciamo la nostra presenza oggi ne abbiamo sette passeremo ridurremo diciamo di tre non abbiamo ancora detto quali saranno ma certamente non rinunceremo ai nostri best seller a quelli che ci hanno fatto diciamo ringiovanire l'età media del nostro cliente di 13 anni quindi questo sicuramente quindi le Mercedes diventeranno tecnologicamente ancora più sofisticate meglio equipaggiate non ci saranno più le macchine di ingresso non ci saranno più le executive quindi si partirà da macchine molto più equipaggiate ma questo avrà anche un vantaggio anche proprio per la clientela proprio per il fatto che Mercedes venderà meno automobili di maggior qualità di maggior prestigio in qualche modo questo avrà un vantaggio anche in termini di valore residuo per quanto riguarda i clienti per quanto riguarda il mercato la cosa sarà sicuramente diversa quindi non è che quando l'elettrificazione quando in realtà la scelta di una nuova tecnologia è l'elemento e quando c'è una tecnologia sola questa dà un vantaggio perché in realtà lo sviluppo tecnologico si butta verso questo ambito e quindi la tecnologia riesce in qualche modo a ottenere delle economie di scala rilevanti che consentiranno diciamo di avere delle automobili meno costose certo è che effettivamente quello che accadrà già si sta vedendo perché dei costruttori cinesi di automobili diciamo a prezzo più basso stanno entrando sul mercato e quindi in qualche modo quello che in realtà mi preoccupa è quello che noi vediamo diciamo tra virgolette con favore che si faccia un piano se non è il 2035 che sia il 2040 ma che si definisca una data in modo tale che questa cosa permette a tutti gli stakeholder di organizzarsi e in particolare io ho a cuore perché li conosco perché la piccola e media impresa italiana il 20% della produzione di Mercedes viene dall'Italia viene da piccole aziende che producono ad alta tecnologia ecco per questi è importante effettivamente sia favorire e sia dargli un quadro che gli consenta chiaramente di capire che devono riconvertirsi continueranno a produrre interi di automobili continueranno a produrre i lamierati ma tutto quello che è legato al motore endotermico certamente subirà un calo e prima si muovono e prima si sa quando questo arriva se non è corretto il 2035 che sia il 2040 ma l'importante è che si dia una data e si pianifichi effettivamente questa trasformazione epocale perché di questo si tratta Eugenio hai fatto cenno alla Cina non avete paura della concorrenza della Cina loro hanno le materie prime per la produzione delle batterie e hanno ovviamente un costo lavoro inferiore rispetto a quello che possiamo avere non potrebbe costituire un vantaggio importante che ovviamente possa penalizzarvi? Ma diciamo noi abbiamo quello che abbiamo fatto sono state vanno in due direzioni da una parte in realtà produrremo le batterie cosa che all'inizio non volevamo fare oggi in qualche modo assieme a Stellantis avremo quindi siamo con proprietari di una Gigafactory anche in Italia quindi questo vuol dire che in realtà la globalizzazione estesa come era una volta come è stata fino adesso sicuramente avrà delle pause diciamo di riflessione per quanto riguarda invece il resto noi siamo abbiamo un partner cinese molto importante molto affidabile che è Gili col quale praticamente condividiamo la nuova la nuova società di Smart e quindi questa loro capacità ci consentirà in realtà di essere presenti nella parte più bassa del mercato con un nostro marchio con una nostra con un nostro posizionamento ben preciso parte del mercato in cui noi non ci siamo oggi e non ci saremo neanche il futuro con Mercedes Luigi giro tempo gli argomenti che ha trattato Eugenio ovvero il rischio di rallentare ulteriormente il ringiovanimento del nostro parco auto e appunto così la concorrenza diciamo non sleale ma comunque vantaggiosa che può avere la Cina verso questo tipo di tecnologia salvo che i cinesi non hanno tecnologie d'avanguardia come gli europei per quanto concerne la produzione di motori endotermici quindi sono forti solo sull'elettrico e hanno tutte le materie prime a disposizione quindi si preannuncia un'invasione cinese in Europa soprattutto nei segmenti bassi penso anzi vediamo già come si stanno affacciando delle società qua proprio anche in Italia di produzione di autovetture ne presenteranno una se non sbaglio a metà luglio nella Bergamasca quindi ci sarà una concorrenza fortissima allora Mercedes Audi BMW sono produttori premium che producono come diceva giustamente Eugenio Blasetti autovetture di un certo livello di grande quantità di stile costose ma da sempre anche quando mi ricordo ero un ragazzo ad avere una Mercedes era un'ambizione un po' di tutti quanti un po' di sogno penso che a subire le conseguenze possano essere invece i generalisti anche se vedo che alcuni generalisti per esempio Volkswagen se così si può chiamare ha annunciato a tempo fa che non produce più vetture che non produrrà più vetture di segmento diciamo piuttosto basso quindi si crea una discriminazione a questo punto perché la FIA 500 nuova costa 35 mila euro se non sbaglio quella elettrica senza gli incentivi costa come una vettura quasi di alta gamma si creerà una discriminazione tra automobilista di serie A e anche serie C i prezzi delle auto nuove sono schizzati l'usato è pure schizzato anche perché con la crisi delle materie prime le fabbriche sono bloccate rallentano la produzione quindi non disponibilità di prodotto si va incontro a un periodo di grandissime incertezze per il mio conto ti chiedo questo sforzo Eugenio ci aiuti a capire questa vettura in poco tempo lo so che è un'enciclopedia rispetto a quello che può offrire l'automobile però ti chiedo di aiutare a capire EQE che cosa vuole essere e quali sono le tecnologie più curiose che nasconde allora intanto due parole l'EQE in realtà è la classe E in versione elettrica quindi la classe E storicamente è la Mercedes per antonomasia è la grandissima stradista di quelli che fanno tanta tanta strada e anche questa è esattamente la stessa cosa quindi è una macchina che con un'autonomia che arriva fino a 654 km nella versione 350 è una macchina dedicata agli stratisti agli imprenditori a quelli che si muovono sull'autostrada e oggi grazie a Dio con l'incremento diciamo dei punti di ricarica sulle autostrade che io chiamo delle oasi in realtà in mezz'ora ma in 15 minuti tu ricarichi l'80 il 70% della tua ricarica e quindi questo ti consente con 654 km in maniera molto rapida di avere 400 km in più di poter espletare diciamo la tua attività lavorativa professionale in maniera praticamente identica a quella di un'automobile endotermica dal punto di vista tecnologico è una macchina incredibile perché sia dal punto di vista della parte digitale degli schermi che ci sono dentro dell'intelligenza artificiale delle ruote sterzanti che ruotano praticamente fino a 10 gradi in fase e in controfase quindi questo significa che in manovra curva come se fosse una classe A e ad alta velocità tiene la strada imposta alle curve come se fosse una grande sportiva malgrado la grande stanza un'altra cosa interessante è che la forma di questa macchina è diversa rispetto alle macchine normali con il motore endotermico perché la mancanza del motore ha dato più libertà agli stilisti e nella parte anteriore pensate che praticamente c'è lo spazio per un enorme filtro EPA che serve proprio diciamo a ridurre gli inquinanti che sono all'interno all'interno dell'abitacolo a livelli diciamo quasi quelli di una sala operatoria e questa macchina può oltretutto a due nasi uno interno e uno esterno quindi ti dice quali sono gli inquinanti presenti all'esterno e quali sono quelli all'interno vi ringrazio grazie per questa chiacchierata abbiamo affrontato degli argomenti davvero molto interessanti naturalmente andrebbero approfonditi ulteriormente e lo faremo sicuramente però nel frattempo vi ringrazio ringrazio Eugenio Blasetti per essersi collegato con noi grazie Eugenio grazie grazie a voi e ringrazio naturalmente anche il giornalista Pierluigi Bonora per il suo intervento grazie grazie a tu e un saluto caro Eugenio Blasetti io invece vi saluto dopo perché Safe Drive non finisce qui tra poco il blocco davvero con tanti servizi interessanti poi ci ritroviamo di nuovo in studio a dopo alla Design Week milanese nel Vanity Fair Social Garden con la colonna sonora di un divertente siparietto tra Diego Thomas l'architetto di cortesie per gli ospiti e Luca Dini direttore editoriale dell'editrice con The Nast è stata presentata l'anteprima italiana dell'undicesima generazione della Honda Civic nonostante siano passati 50 anni dal primo modello correva l'anno 1978 la nuova Honda Civic EHEV Full Hybrid mantiene inalterati i suoi elementi distintivi stile affidabilità prestazioni e tecnologia il fiore all'occhiello è il nuovo gruppo propulsore un sistema che assicura la combinazione ideale tra prestazioni ed efficienza in grado di passare in maniera fluida da una modalità di guida all'altra per godersi appieno ogni tipologia di percorso sfruttando la presenza congiunta del doppio motore elettrico e di quello termico per aumentare il piacere di guida e la risposta dell'auto la nuova logica Winding Control assicura che il funzionamento del motore termico sia mantenuto durante le curve su strade tortuose ciò permette di offrire un'accelerazione istantanea capace di regalare una sensazione di assoluta dinamicità il propulsore EHEV full hybrid si distingue anche per il consumo di benzina ridotto a 4,7 litri per 100 km nel ciclo WL-PT e le basse emissioni di CO2 108 g al km questa straordinaria efficienza si unisce alla potenza di 181 cavalli e 315 Nm di coppia massima prestazioni che rendono la nuova Civic un'auto ai vertici del segmento di appartenenza oltre che nella versione Type R una sportiva capace di affrontare a tutto gas le curve del Nürburgring oggi però non basta avere un'elegante carrozzeria e un gruppo propulsore sobrio ed ecologico per avere successo gli automobilisti si conquistano anche con gli angeli custodi elettronici dei sistemi ADAS e la connettività Oggigiorno la connettività è uno standard e ovviamente molto simile fra tutti i competitors nel mercato automotico come Honda cerchiamo di distinguerci andando a cercare di dare il meglio al nostro cliente su tre aspetti il design ma questo è scontato con una macchina molto molto elegante tra linee pulite la connettività e il comfort di bordo ma soprattutto ci vogliamo distinguere grazie alle nostre motorizzazioni full hybrid in serie con alta potenza e basse emissioni e con i nostri sistemi di sicurezza sia attivi che passivi quindi sicurezza passiva significa che su tutte le nostre vetture abbiamo un minimo di 9-10 airbag e soprattutto dei sistemi di non voglio dire guida autonoma ma di guida grazie all'ADAS sensing specifico brevettato da Honda dei sistemi di aiuto alla guida molto molto importanti a livello di sicurezza attiva insomma la nuova Civic è un modello che ha lasciato la Gran Bretagna per essere ora costruita in Giappone che dopo 50 anni mantiene inalterato il suo fascino che può contare su una superba tecnologia motoristica quest'estate si farà conoscere in un tour sulle spiagge italiane e in autunno arriveranno i primi esemplari nuova Kia Niro sta facendosi largo tra le agguerrite campagne di prelancio pronta ad aggredire il mercato grazie a un progetto che la rende ancora più grande e non è solo questione di dimensioni con le misure crescono infatti anche gli equipaggiamenti elettronici di assistenza alla guida il livello di sicurezza e il comfort a bordo come la prima generazione seguendo le buone tradizioni di famiglia anche nuova Kia Niro è disponibile ibrida ibrida ricaricabile o completamente elettrica crescono le dimensioni la lunghezza di 7 cm rispetto alla precedente in tutto 442 la larghezza di 2 l'altezza di 1 quanto basta per offrire molto più spazio ma senza eccedere negli ingombri esterni per esempio la capacità di carico passa da 410 a 451 litri con le dimensioni Niro ha cambiato anche stile assecondando quello della sorella Sportage insomma nonostante i successi ottenuti Niro vuole rompere con il passato sfoggia una mascherina ridotta ai minimi termini e fari con tecnologia full LED che fanno immediatamente intuire l'elevato contenuto tecnologico designer e ingegneri hanno collaborato all'unisono anche per realizzare gli AeroSea Pillar si tratta dei pannelli laterali sui montanti posteriori con duplice funzione estetica piacevole la colorazione bitono e aerodinamica il valore CX raggiunge un interessante 0,29 la rivoluzione passa anche dagli interni anzi soprattutto design pulito funzionale e in linea con lo spirito ecologico delle motorizzazioni materiali riciclati ove possibile usati in modo quasi maniacale il cielo per esempio è realizzato con carta da parati riciclata non sfuggono i rivestimenti dei sedili in rigorosa pelle vegana un tessuto biologico con fibre di eucalipto per i più curiosi si chiama tensal materiale in fibre riciclate anche per la base del parabrezza perfino la vernice di rifinitura dei pannelli portiera non è una vernice qualunque ma rigorosamente priva di composti organici volatili e tutto sia chiaro ottimamente rifinito all'altezza degli standard qualitativi ai quali ultimamente il marchio Kia ha abituato la sua clientela dal 2016 oggi c'è stata un'evoluzione dalla piattaforma K che equipaggia praticamente la vettura andando a migliorare tutto ciò che è l'implementazione delle motorizzazioni ipide all'interno del sistema vettura quindi oggi ci prepariamo ad avvicinarci a un prodotto interamente rivoluzionato dall'origine e migliorato sia per quanto riguarda la guidabilità l'abitabilità il design e anche la performance su strada grazie a un alleggerimento dei pesi le tre motorizzazioni disponibili sono tutte elettrificate si parte da un entry level full hybrid tradizionale accoppiato a un cambio a 6 marce DCT si può passare poi a uno step successivo con la versione plug-in hybrid anch'essa equipaggiata da un cambio a 6 marce DCT per poi finire invece alla full electric con una batteria da 64,8 kilowatt nuova Niro è già ordinabile presso la rete dei concessionari Kia a un prezzo di ingresso di 30.500 euro senza tenere conto delle diverse promozioni riservate al periodo di lancio previsto per il prossimo settembre amici di Safe Drive benvenuti alla quarta puntata di Cara Influencer per un giorno io sono Elena Giaveri e come sapete sono una cara influencer durante queste puntate andremo a provare 10 auto insieme ad alcuni appassionati veri come me e scopriremo insieme quali sono le loro opinioni la protagonista di oggi ci aveva già fatto divertire parecchio l'anno scorso solo che adesso si è rinnovata è un modello che ha brillato negli anni 60 e 70 soprattutto nelle competizioni e nei rally devo dire che è davvero scattante precisa molto sportiva leggerissima quindi davvero divertente da guidare e soprattutto oggi andremo a provarla nella versione S quindi il top di gamma per sportività dotata di 300 cavalli quindi 50 in più rispetto alla versione standard e il fortunato che oggi la proverà insieme a me è Marco Stella ciao Marco benvenuto a Cari Presser per un giorno ciao Elena grazie ciao grazie allora Marco raccontaci qualcosina di te di dove sei quanti anni hai che lavoro fai io sono di Alano di Piave un piccolo paese del bellunese ho 36 anni compiuti da poco e sono farmacista però durante il periodo libero tempo libero mi diletto correre e far cronoscalate con autostoric con un Alfa Romeo oggetti veloce caspita io pensavo fossi semplicemente un appassionato invece qua c'è proprio del professionismo beh professionismo passione grande passione grazie anche a mio padre che fin da piccolo mi faceva seguire seguivo lui nei campi di gara quando correva lui e anche fin da giovane età col go kart sempre però a livello obistico e di passione scommetto allora che ti divertirai davvero tanto oggi con questa macchina Marco ma innanzitutto quando si fa un test drive la prima cosa da analizzare sono gli esterni come ti sembrano quindi a livello complessivo diciamo come look come look classico del ping quindi macchina ben piantata a terra bassa e questo in più ha anche un kit aerodinamico optional quindi baffo d'anteriore e alettone posteriore che aumentano ancora di più il downforce quindi la stabilità e la precisione di guida sì in carbonio così come il tetto anche in carbonio quindi tutta una serie di dettagli estetici davvero curatissimi ma che non hanno solo funzione estetica come dicevi bensì anche per implementare proprio il peso dell'auto che si attesta a 1109 kg per quanto riguarda invece il look complessivo io direi anche che richiama molto comunque quelle quelle alpine da competizione da rally guardiamo ad esempio il faro che comunque con questa forma tondeggiante richiama proprio le vetture storiche quattro fari anteriori come quella come l'originale alpine a 110 che una volta montava fari allo yodium mentre adesso abbiamo quattro fari a led esattamente e poi io vorrei farti vedere anche la parte laterale perché secondo me è da qui che si apprezza maggiormente la linea di quest'alpine così aerodinamica infatti abbiamo il richiamo stilistico sempre con l'alpine diciamo storica questo richiamo stilistico sulla porta il logo alpine e soprattutto possiamo parlare anche dei freni che sono dei gran bei freni freni Brembo pinza e freno Brembo e un cerchio da 18 che devo dire è bellissimo spalla ribassata quindi aumenta la precisione di guida ma anche il comfort diciamo ne risente un pochettino ma con una macchina del genere si guarda più la prestazione che la comodità e il suo carattere aggressivo e sportivo è sottolineato secondo me anche da questo colore arancione fuoco che ci sta alla grande e poi scusami qui nella parte posteriore questo alettone l'alettone è tanta roba un alettone in carbonio regolabile con i supporti in Ergal anche questo come dicevamo prima opzionale assieme a un estrattore inferiore che aiuta ad aumentare il downforce della macchina bella e bella ma la parte più divertente è assolutamente la guida te lo garantisco vabbè ma questo questo è uno start-up che non è la chiave è un po' grandine sì come chiave no no ti garantisco non è una chiave assolutamente vado di là vado da quella parte ma non è una chiave potrei andare io di là visto che sono venuto qui apposta mi ha sgamato dai è tutto tuo grazie allora Marco che te ne pare degli interni di quest'alpine bellissimi sono molto curati mi piacciono e hanno anche dei richiami estetici all'alpine originale degli anni 70 vero verissimo bellissimo l'utilizzo comunque di questi materiali tipo alcantara carbonio tanti inserti insomma veramente curati anche come dicevi queste impunture la rendono davvero particolare e salendo a bordo si ha subito la percezione di sportività ovviamente abbiamo anche qui un sistema di infotainment quindi c'è lo schermo dotato di navigatore ma diciamo che la peculiarità di quest'auto è proprio il fatto di potersi divertire in pista tant'è che c'è Alpine Telematrix giusto? Alpine Telematrix permette di tenere sotto controllo tutti i parametri della macchina la pressione del turbo le temperature e anche i tempi sul giro quindi top motore posteriore centrale senti come scoppietta? adesso qui che siamo nello stretto si sente molto esatto vai Marco io sono con te un'accelerazione davvero senti senti un'accelerazione davvero imbarazzante perché da 0 a 100 impiega soli 4.2 secondi per quanto concerne invece la velocità massima raggiunge i 275 chilometri orari su circuito eh ragazzi mi raccomando ricordiamo poi che il cambio è un 7 marce doppia frizione molto comodo secondo me si molto comodo l'unica forse neo sono le palette un pochino corte si eh le avrei preferite un po' più lunghe perché quando si si fanno i tornanti si fa fatica un po' a trovare la marcia poi per quanto riguarda invece l'assetto so che è stato anche ribassato no? ribassato e soprattutto dotato di una barra antirollia anteriore più dura rispetto alla 110 del doppio del 100% quindi bella rigida infatti è molto piatta davanti è molto stabile è un coltello davanti è bellissimo allora Marco quanto ti sei divertito oggi? un sacco bellissimo bellissimo la macchina è bellissima anche la tua compagnia grazie anche per me è stata una bellissima giornata ricordiamo come sempre prima di concludere la nostra prova alcuni dati relativi all'auto che abbiamo provato ovvero questa Alpina 110S monta un motore 4 cilindri turbo 1.8 da 300 cavalli e 340 newton metri di coppia brucia lo 0-100 in 4.2 secondi e raggiunge una velocità massima di 275 km orari per quanto riguarda infine gli allestimenti è disponibile in questa versione SGT oppure in quella standard il prezzo specifico quindi per questa versione S parte da circa 73 mila euro Marco io nuovamente ti ringrazio per la bellissima giornata grazie a te grazie mille a te e noi ci vediamo con la prossima puntata di Car Influencer per un giorno ciao 16 minuti di un filmato ricco di informazioni che si può vedere su YouTube non bastano per raccontare per filo e per segno il restyling della DS7 il piatto è davvero ricco e va oltre l'automobile il nuovo modello sarà disponibile da settembre 2022 e si potrà gestire la pratica di acquisto totalmente online fino alla consegna alla propria abitazione con il sistema DS Delivery Valet è prevista inoltre una versione di lancio denominata Premier sviluppata da DS Performance la DS7 E-Tense 4x4 360 è dotata di un propulsore ibrido plug-in da 360 cavalli con trasmissione intelligente a quattro ruote motrici assetto ribassato e freni di grande diametro la completa un pacchetto estetico dedicato e un prezzo non ancora noto ma senza dubbio accattivante per chi punta su un'auto elegante e finemente accessoriata perché la raffinatezza è stata la stella polare seguita dai progettisti che hanno totalmente preso ispirazione dalla haute couture e dalle tecnologie più avveniristiche la mascherina è più imponente le luci più sottili ma la resa gigantesca la tecnologia DS Pixel LED Vision 3.0 assicura un fascio luminoso da 380 metri di profondità e largo 60 che segue le curve e le condizioni del traffico il pezzo da 90 sono le luci di posizione DS Light Veil composte da una luce di marcia diurna e da 4 elementi luminosi verticali costituiti da 33 LED dietro aggiornati i fanali a LED che presentano un design a vortice mentre sparisce la scritta Crossback sostituita da DS Automobile altre parole d'ordine sulla DS 7 sono comfort e relax come l'i-fi focal con 14 altoparlanti capaci di trasformare l'abitacolo in una sala musica le sospensioni controllate da una telecamera che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della strada il dispositivo che legge i segnali stradali e li applica alla guida o il DS Night Vision che attraverso una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti pedoni e animali fino a 100 metri il conducente riceve le informazioni sul nuovo display ad alta risoluzione con uno speciale avviso in caso di pericolo più raffinata di così oggi la famiglia è al completo dopo Opel Astra è la volta di Astra Sports Tourer la versione Station Wagon e non è un dettaglio il marchio tedesco vanta una lunga tradizione in fatto di caravan come venivano chiamate in origine se si considera la capostipite indimenticata Cadet del 1963 quella che ha appena visto la luce può essere considerata l'undicesima generazione di una dinastia dal grande senso pratico e dallo spirito versatile nuova Astra Sports Tourer traduce l'esperienza di 5,8 milioni di station compatte vendute in passato in soluzioni adatte alle moderne esigenze tanto spazio ben gestito e la possibilità di usufruire di un'ampia serie di accessori che la rendono ideale per ogni necessità la nuova Opel Astra è un insieme di tantissime novità l'elettrificazione ibride plug-in da 180 cavalli insieme ai motori benzina e diesel estremamente efficienti un design completamente nuovo un nuovo corso stilistico che si applica a questa nuova Opel Astra insieme ad altri modelli della gamma tantissima tecnologia come i fari a matrice di led come Apple CarPlay Android Auto e wireless e tanti sistemi di assistenza alla guida per finire quello che porta questa Astra Sports Tourer la versione Station Wagon che tanto ha avuto successo nel passato e anche tantissimo spazio nel bagagliaio che è estremamente ampio molto largo molto profondo molto alto anche con tanto spazio di circa 600 litri nel bagagliaio che diventano oltre 1600 abbattendo i sedili posteriori Safe Drive ha provato nuova Astra Sports Tourer prelevandola direttamente dalla storica sede Opel dove viene tuttora costruita a Russenheim nei pressi di Francoforte il test tra le circostanti strade di casa ha messo in evidenza una guida piacevole fondamentalmente comoda e rilassata ma con una taratura delle sospensioni e un telaio in grado di reagire ottimamente anche alle andature più impegnative spesso consentite in Germania doti già apprezzate sulla versione berlina con la quale del resto la versione Station condivide ogni altra novità la Opel Astra è completamente nuova perché si basa su una piattaforma completamente nuova e porta con sé una grandissima novità e cioè l'elettrificazione è ora infatti disponibile insieme ai motori benzina e diesel anche con il motore ibrido plug-in quindi ricaricabile alla spina che permette di avere un'autonomia in puro elettrico di circa 60 km questo significa che ricaricando quotidianamente la batteria la gran parte dei guidatori europei possono fare il tragitto casa ufficio in puro elettrico dimenticandosi del distributore di carburanti fossili oltre alla tecnologia plug-in che accompagna l'uscita della Sports Tourer per il prossimo anno è prevista una motorizzazione completamente elettrica ma per i dettagli bisogna attendere il prezzo chiave in mano della nuova Astra versione Station parte da 25.900 euro per la benzina 28.700 per la motorizzazione diesel e 36.700 per la ibrida plug-in e rieccoci come promesso nei nostri studi per questo secondo approfondimento l'argomento sarà il marchio Jeep e l'occasione ce lo dà l'uscita la nuova Grand Cherokee nella versione plug-in c'è solo quella per la verità e affronteremo questo discorso del marchio e del modello con Gabriele Conti Senior Brand Manager di Jeep grazie di essere tornato nei nostri studi grazie grazie dell'invito Michele e con un altro ritorno direi con una presenza quasi quasi fissa il giornalista opinionista Maurizio Toma grazie di essere con noi grazie a te dell'invito Andrea beh un marchio a cui tutti siamo affezionati in Italia in maniera particolare se non sbaglio poi magari sarà anche questo motivo di discussione e di chiacchierata io partirei dal mercato che è un argomento che ultimamente si cerca di evitare perché sappiamo ci sono diversi motivi le difficoltà che sta affrontando il mercato ma per voi le cose stanno andando un po' meglio o sbaglio? non sbagli Michele diciamo in un contesto di mercato che sappiamo non essere eccezionale al momento anno su anno si sta perdendo circa il 25% delle vendite per quanto riguarda il nostro marchio il marchio Giple cosa stanno andando stanno andando bene basti pensare che nel mese di maggio quello diciamo appena concluso diciamo l'ultimo di cui abbiamo i dati disponibili abbiamo fatto un 4,7 di quota mezzo punto in più dell'analogo maggio dello scorso anno e la cosa che più ci fa piacere è che si fa un gran parlare di mobilità sostenibile ebbene nel sottosegmento di quelli che noi definiamo LEV Low Emission Vehicle ovvero sia tutto ciò che si può ricaricare alla spina tutto ciò che è elettrico o plug-in hybrid ebbene nei primi 5 mesi dell'anno una vettura su 5 venduta in questo sottosegmento è una Jeep Compass addirittura il più venduto tra i plug-in hybrid e in generale tra tutte le macchine ricaricabili alla spina Renegade il numero 2 quindi direi che da questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti le ragioni secondo voi sicuramente vi siete fatti delle domande beh indubbiamente di sicuro la bontà dei nostri dei nostri prodotti l'abbiamo lanciato il 4x e plug-in hybrid due anni fa c'è stato appunto il tempo giusto per educare tra virgolette sia la nostra forza vendita che anche i clienti che hanno iniziato a conoscere questa nuova tecnologia plug-in hybrid e quindi ora ci stanno arrivando delle risposte assolutamente entusiasmanti il 4x e di Jeep è ormai sinonimo di plug-in hybrid e anche di 4x4 perché ricordo che tutti i nostri plug-in hybrid sono 4x4 e questo sarà uno degli argomenti principe della chiacchierata di questa sera Maurizio un mercato difficile sono tante le ragioni ovviamente secondo te è un mix di tutto o c'è un motivo principale che rende difficile questo mercato? Hai fatto una domanda che chiederebbe qualche settimana per poter offrire una risposta esotiva ce l'abbiamo sintetizzando moltissimo ci sono molte ragioni prima di tutto economiche perché comunque i listini delle auto sono sempre più pesanti e la gente ha sempre più difficoltà anche ad avere accesso al credito e quindi per mettersi una vettura di queste ultime generazioni così costosa sta diventando un problema sociale importante e poi c'è anche una grande confusione nella mente del consumatore che non sa il più delle volte come approcciare il problema del cambio del ricambio della vettura una dimostrazione perfetta proprio la quadratura del cerchio è quello che ci raccontava Gabriele il fatto che queste plug-in hybrid siano così vendute è l'esemplificazione perfetta sono un salvagente perché chi compra e si può permettere quel tipo di automobili sa che potrà circolare si sente al sicuro magari le usa non nel modo del tutto corretto queste plug-in hybrid però appunto si sente garantito del fatto di avere un'automobile che lo mette in condizione di dormire sonni sereni parliamo del prodotto anche se non ce l'abbiamo in studio per la verità non ce l'abbiamo perché avete pochi le state vendendo tanti e non ne avete a disposizione in tutta onestà arriveranno nelle concessionarie fisicamente quest'autunno ce ne sono un paio di esemplari che stanno girando tutta l'Europa e quindi ahimè diciamo nella giornata odiena non si trova in italia e quindi dobbiamo fare dobbiamo fare a meno vuol dire che stiamo anticipando proprio la novità quindi anche questo magari può essere un vantaggio però lo vediamo la possiamo apprezzare dalle immagini naturalmente stiamo parlando del gran Cherokee e non Cherokee come giustamente mi è stato detto un modello fondamentale per voi qual è l'upgrade ce ne sono tanti lo so di upgrade senza parlare della parte elettrica poi dopo entriamo elettrificato poi entriamo nel dettaglio parlando in generale di gran Cherokee mi piace dire che è una vettura nata nel 1992 e sta arrivando arriva ormai alla quinta generazione con le prime 4 abbiamo venduto solo tra virgolette 7 milioni di esemplari che è un numero eccezionale perché solitamente i milioni di esemplari le fanno le utilitarie le auto cittadine che si vendono nel grande pubblico comunque 7 milioni di esemplari siamo alla quinta generazione le cose fondamentali da dire la prima è che abbiamo parlato poco fa del plug-in hybrid ebbene in Italia e in Europa avremo la motorizzazione plug-in hybrid cosa vuol dire all'interno di gran Cherokee coesisteranno un motore chiamiamolo tradizionale a benzina da 272 cavalli accoppiato ad un propulsore elettrico che garantisce altri 108 cavalli per un totale di 380 cavalli quindi performance degne di una Jeep ma il tutto con un livello di emissioni inquinanti e di consumi fortemente ridotto proprio per l'architettura della tecnologia plug-in hybrid che garantisce peraltro fino a 50 km di autonomia in modalità full electric e un'autonomia complessiva della vettura quindi unendo il serbatoio della benzina alla batteria elettrica di oltre 700 km ho letto sistemi di assistenza alla guida quindi capitolo sicurezza davvero ci avete tenuto molto questo progetto punta molto su questo aspetto essendo un'ammiraglia ovviamente come tutte le ammiraglie deve essere il top di tutto e anche il top anche e soprattutto della sicurezza all'interno di Gran Cerro che abbiamo oltre 110 sistemi di sicurezza attiva e passiva per il conducente per i passeggeri dai più banali chiamiamoli banali perché ormai in vetture di questo rango ci sono sempre il rilevamento della stanchezza del guidatore la lettura dei segnali stradali fino ad arrivare cose che magari tanto male non sono quali possono essere la telecamera per la visione notturna con cui io nel mio nel mio cruscotto posso vedere animali o persone anche in assenza di luce all'esterno o anche un sistema l'Active Drive Assist che mi garantisce di raggiungere il livello di guida assistita 2 che peraltro è il livello massimo oggi consentito dalla legge quindi in maniera in ottica di sicurezza Gran Cerrochi è realmente un'ammiraglia quindi non solo come dimensione importanza ma anche in tema di sicurezza Maurizio Gran Cerrochi abbiamo sentito un modello fortunato nelle vendite nel numero delle vendite non in maniera relativa in maniera piuttosto assoluta direi la fortuna quale può essere le ragioni forse che in realtà non c'è un vero e proprio competitor oppure possono essere pochissime cioè è un modello veramente sui generi molto particolare lei Michele Gran Cerrochi è iconico nel senso quinta generazione ma nelle precedenti quattro ha scritto veramente delle pagine di storia dell'automobile all'inizio quando fu presentato era assolutamente unico nel mercato non c'era realmente un competitore oggi non è più così perché essendo in qualche modo votato un po' più alla causa dei SUV e meno dell'offroad duro e puro come peraltro è nel DNA del modello i concorrenti sono tanti sono molto agguerriti però Gran Cerrochi è la faccia americana del SUV di lusso e chi ha quel tipo di preferenza di inclinazione ovviamente li trova esattamente quello che cerca una vettura grande molto comoda sempre stata molto potente inarrestabile perché io ho guidato credo tutte le generazioni del Gran Cerro che anche veramente in condizioni limite forse oltre e non mi ha mai dato pensieri mi ha portato sempre fuori dai guai potrei raccontarti mille avventure con il Gran Cerrochi ma è veramente un'avventura straordinaria ecco hai toccato un tasto che apre un capitolo ovvero la passione per l'offroad che poi parlando di Jeep si parla alla fine si parla di offroad naturalmente collegandomi all'elettrificazione Gran Cerrochi in questo caso sarà solo nella versione plug-in abbiamo visto quali sono i vantaggi però elettrificazione vuol dire anche un'altra cosa la nuova tecnologia che avete sviluppato la tecnologia 4xE che abbraccia tutta la gamma naturalmente e che offre dei grossi vantaggi perché mi sono collegato il discorso che avete fatto entrambi perché all'inizio poteva destrare qualche sospetto sappiamo che Jeep si rivolge a una clientela molto esigente una clientela di settore una clientela che se ne intende tra l'altro e poteva creare un problema invece si è dimostrato l'elettrico questo ausilio elettrico del 4xE di assoluto vantaggio un vantaggio tutt'altro che uno svantaggio o mi sbaglio ma non credo non ti sbagli assolutamente noi il 4xE l'abbiamo lanciato nel 2020 con Renegade e Compass quindi vetture che hanno anche una vocazione versatile vetture che devono essere utilizzate dai clienti sia in città che magari anche in qualche scampagnata offroad ebbene la tecnologia 4xE plug in hybrid dà dal meglio di sé nell'offroad ma anche in città in città io posso usarla in elettrico non inquinare guida silenziosa consumare poco in offroad in offroad la modalità elettrica dà quasi il meglio di sé perché di cosa ho bisogno nell'offroad una coppia perfettamente controllabile fin dai bassi numeri di giri quindi diciamo che il 4xE ha l'optimum per Jeep è l'ottimo che si può avere una risposta è stata anche Wrangler io stesso faccio quasi un mea colpa quando abbiamo deciso di chiudere le motorizzazioni tradizionali e importare quindi vendere soltanto la motorizzazione paginabile qualcuno poteva essere scettico perché i veri duri e puri dell'offroad quali sono molti dei clienti di Wrangler sarebbero stati pronti avrebbero accettato di buon grado questa tecnologia bene sì oggi Wrangler vende di più nel motore 4xE plug-in hybrid che è l'unico disponibile rispetto a quando potevamo anche vendere benzina e diesel tradizionali quindi questa è la risposta che cercavamo tant'è che ora il nuovo gran Cero che sarà 4xE plug-in hybrid andranno a completare tutta la gamma 4xE per convincere la clientela avete dovuto fare uno sforzo di convincimento uno sforzo marketing oppure vi hanno seguiti facilmente di sicuro abbiamo fatto uno sforzo diciamo anche interno del far conoscere perfettamente questa tecnologia tutta la rete di vendita ma diciamo che far provare queste vetture è stato forse il tema vincente perché nel momento in cui uno sale su un 4xE plug-in hybrid vede tutti i vantaggi no ansia di ricarica modalità elettrica sono delle vetture molto scattanti molto performanti perché anche quanto le utilizzo nella modalità ibrida lo spunto dell'elettrico un motore tradizionale non potrà mai averlo quindi far provare la macchina di sicuro è stato uno dei temi vincenti per poter fare i risultati che abbiamo oggi Maurizio ti ho visto annuire quando Conti diceva appunto che il vantaggio di avere la coppia immediata dell'elettrico in campo off-road è soltanto che un grosso vantaggio naturalmente assolutamente sì chiunque abbia fatto un pochino di fuoristrada sa che per trarsi di impiccio nelle condizioni più difficili avere tanta coppia subito è assolutamente fondamentale per cui l'aiuto del motore elettrico anche se tu usi la vettura in modalità full hybrid è fondamentale veramente molto importante ti dà serenità perché sai che con una lieve pressione del gas anche con le marce ridotte tu vieni fuori dal pasticcio in cui ti sei cacciato Conti questo quando l'elettrico dà un aiuto quando invece le automobili dovranno essere completamente elettriche sarà un ulteriore vantaggio o un problema? No direi che sarà un vantaggio Jeep si sta muovendo appunto fin dal 2020 nella strada verso l'elettrificazione posso già dire annunciare è già stato fatto quindi non è un anteprima che dal prossimo anno lanceremo il primo SUV completamente elettrico e posso anche dirvi che dal 2025 ogni segmento di mercato SUV al suo interno avrà una Jeep completamente elettrica quindi siamo partiti circa due anni fa e non ci fermiamo e anzi stiamo anche anticipando i tempi rispetto a quanto si poteva preventivare qualche tempo fa Maurizio tu da fruttore di questa tipologia segmento di automobili in realtà sei fruttore di tutti i segmenti di automobili non c'è nulla che uno conosca in maniera approfondita ma ad ogni modo conosci il mondo dell'off-road ecco questo ulteriore approccio verso un'auto off-road completamente elettrica il pubblico è pronto per affrontare questo discorso secondo te naturalmente allora il pubblico culturalmente probabilmente è anche abbastanza pronto perché se parli di una come dire una nicchia di mercato che è quella degli appassionati dell'off-road sono già probabilmente abituati a prodotti di una certa importanza anche economica e sono normalmente evoluti nelle loro informazioni e nell'accesso alle informazioni io mi ricordo correggimi Gabriele se sbaglio credo nel 2010 2012 negli Stati Uniti era già stato presentato e si muoveva un prototipo di Wrangler completamente elettrica estremo un prototipo estremo anche molto affascinante e parliamo quindi di oltre dieci anni fa quindi queste cose hanno origini molto lontane però ribadisco l'off-road in quanto tale visto come estremo con l'elettrico non bisticcia in nessun modo assolutamente tra l'altro potrebbe risolvere anche un problema magari certe attività di appassionati off-road che hanno visto ultimamente possiamo dirlo anche dei contrasti con l'associazione ambientalista e via dicendo ecco questo potrebbe essere un problema assolutamente bypassato con un'auto completamente elettrica o no? In parte Wrangler e Grand Cherokee possono muoversi in modalità 4x4 in modalità full electric e quindi questo viene incontro a quello che dicevi poc'anzi ovviamente se parliamo di plug-in hybrid i chilometri di autonomia lo sappiamo sono 40-50 nel momento in cui avremo anche delle vetture completamente elettrico avranno delle autonomie molto maggiori che potranno essere utilizzate appunto anche in off-road come dicevi poco fa Sì sì certo io pensavo in prospettiva dell'auto completamente completamente elettrica potrebbe essere un vantaggio questo oltre a quello strettamente tecnologico Tutto questo fatto salvo che non ci siano i talebani dell'ambiente perché non è più un problema di emissioni dei motori ma è lo sfregamento del pneumatico sul sentiero cito sempre il fatto che delle guardie forestali mi hanno fermato con un cavallo mentre ero in un sentiero dicendo che i ferri del cavallo rovinavano il terreno ok tu dici che sono delle posizioni dove troveranno sempre il motivo poi per ostacolare va bene io vi ringrazio grazie per questa chiacchierata molto interessante ringrazio Gabriele Conti segno band manager di Jeep e posso già invitarti prossimamente magari parliamo di qualche altro argomento assolutamente non vedo l'ora grazie Michele grazie ai telespettatori grazie a Maurizio Toma naturalmente giornalista e opinionista per essere stato con noi io non ti invito perché sei in automatico viene qua in automatico naturalmente grazie a tutti voi che ci avete seguito naturalmente da casa questa volta finisce qui l'appuntamento come sempre ma questo lo sapete è tra una settimana ciao alla prossima ciao